Ridurre le bollette dei consumi a chi è in difficoltà è con questo obiettivo che la Multi Utility Estra ha deciso di portare avanti la campagna informativa Estra ti è vicino e ti informa per promuovere il bonus sociale elettrico. Possono accedere al bonus sociale per il disagio economico tutti i clienti con un'ISE non superiore agli 8.107,5 euro e non superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose con più di tre figli a carico. Esiste dal 2008 un'opportunità che ha concretizzato il governo con un provvedimento che garantisce le famiglie che versano una condizione di povertà energetica, così si chiama, sotto una certa soglia di reddito in base chiaramente alla valutazione ISEE si può accedere al bonus energia, bonus gas e bonus luce, anche accumulabile. In più c'è un terzo bonus che è legato alla presenza di una particolare invalidità o una malattia in una famiglia che comporta un utilizzo di macchinari particolarmente energivoli. Questi tre bonus possono essere accumulati. Il dato negativo che ci ha spinto a fare questa grande campagna informativa in collaborazione con i comuni che sono i soggetti preposti ad istruire questa pratica e dove ci si deve rivolgere, siamo stati spinti dal fatto che in questo Paese solo il 30% delle famiglie che hanno diritto a questo bonus lo utilizzano. Considerate che questo fondo per le famiglie bisognose è costituito da una piccola addebito che è in bolletta che tutti gli italiani pagano. Quindi ci sembra ragionevole e giusto, visto che siamo in Europa al 17esimo posto in quanto a povertà energetica, perché scontiamo il fatto che le nostre bollette sono notevolmente salate, molto appesantite dalla componente fiscale. Quindi il bonus energia può essere un piccolo sollievo che si può accumulare fino a 200 euro all'anno. Quindi ci sembrava giusto essere i primi in Italia come azienda, come utility, a fare una vera e propria campagna al fianco dei comuni per promuovere questa opportunità per le persone che possono avere queste necessità. Per fare domanda occorre compilare gli appositi moduli presso i comuni di residenza, sul sito di Arera o quello di Anci e poi consegnarli al proprio comune di residenza o in un altro istituto. Questa è una città che vede 631 famiglie sostenute dal comune per i servizi educativi, quasi 500 per i servizi scolastici, quasi 300 con i voucher. Questa possibilità che abbiamo e che si sorregge sulla fiscalità generale è evidentemente un modo per non investire di meno ma investire di più. E cioè avere la possibilità attraverso la collaborazione in questo caso con Estra che si qualifica ancora di più come multi utility sociale di poter avere risorse libere per altre iniziative di sostegno.